41esimo episodio di in risposta scombo ma quanti bei feedback abbiamo avuto in questi giorni Simo 41, 14, tantissimi ragazzi vi ringraziamo veramente tanto 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 ci avete taggato nelle vostre stories perchè Spotify fa il riassunto annuale di quello che vi siete sentiti, spero non abbiate sentito del black metal, dissing, free dissing free dissing, questa è una citazione a un'altra puntata, ormai raccontino questa cosa, no, però tantissimi ci hanno taggato per dire il podcast che ho ascoltato di più quest'anno è in risposta scombo la cosa ci riempie veramente di gioia e di orgoglio continuate ad ascoltarci continuate ad ascoltarci su Spotify grazie mille a tutti per farci salire in quella fantastica classifica, ma poi dove siamo in quella classifica? non la guardo più ormai ve lo diciamo prossima settimana dai ve lo diciamo prossimo episodio oggi episodio didattico perchè oltre a averci insomma subissato di messaggi e di like e quindi averci fatto ecco tanto tanto piacere io personalmente vengo subissato di domanda anche tu no Fabri? sempre quello sempre appunto allora tante persone vogliono capire quali sono le differenze tra i due client di Magic e quindi visto e considerato che effettivamente la casa madre Wizard of the Coast non fa questo grande lavoro questo bisogna tirargli le orecchie di comunicazione per far capire cosa è MTGO come funziona MTGO cosa è MTGA come funziona MTGA in verità su MTGA il lavoro c'è è MTGO che è lasciato diciamo a se stesso e che perché MTGO sembra che è quella roba da carbonari dove solo pochi eletti riescono a raggiungerlo e non si capisce bene come riesco alcuni guadagnano abbiamo invitato Mirko Cialatta che ti dice io dal MTGO con il mio hobby guadagno 4-500 euro al mese altri si qualificano e dici ma come e allora uno cerca di spiegarlo non ho visto e considerato che abbiamo parlato di economia magari la scorsa settimana la puntata è andata benissimo grazie anche per quello questa settimana qua cerchiamo di mettere le due piattaforme a confronto cercando di darvi delle informazioni sia su come funzionano banalmente sono molto diverse sia su che formati si possono giocare sia su come funziona l'economia e sia ultima cosa su come funziona il Path 2 Pro giusto? perfetto mamma mia che professionista partiamo dal facile partiamo da MTGA no scherzo da MTGA MTGA lo conosciamo dai chi gioca a Magic sa cos'è MTGA ma per forza allora come funzionano quindi capitolo come funzionano come funziona Magic Arena Magic Arena è un client che si scarica ovviamente da Intel che funziona solo su PC e Mac per ora sta arrivando la versione mobile sta arrivando ci dicono quindi incrociamo le dita e fondamentalmente funziona con un sistema di free to play esatto modello free to play recentissimo ne abbiamo parlato nella scorsa puntata sull'economia ma il concetto di MTGA è che tu più giochi più sblocchi carte questo riassuntone tra l'altro Magic Arena ha delle differenze diciamo molto marcate con il prodotto cartaceo no? partiamo dalla bustina che tu sblocchi all'interno della bustina cartaceo ci sono 15 carte all'interno della bustina di Magic Arena ce ne sono 8 si si è differente perché sono bustine non pensate per il draft ma solo per aprirle e per ricevere appunto le carte che vi servono quindi fondamentalmente l'inizio di ogni giocatore di Magic Arena con il rapporto che ha col gioco è all'interno io entro non devo pagare niente non c'è alcun buy in c'è solo da fare l'account gioco sblocco le missioni all'inizio c'è un tutorial si c'è il tutorialone che tra l'altro su MTGO non c'è lo so bene c'è un tutorial dopo il tutorial ci sono le sfide come si chiamano quelle dei colori si sbloccano tante carte le prime carte dopodiché ci sono le varie modalità di gioco che sono tante effettivamente divise in modalità arena e modalità non arena esatto c'è anche il tastino da cliccare sopra nella schermata dove appunto poi hai accesso alle modalità del chiamiamolo magic classico quindi la best of three e altro però anche i micro tornei interni al client che non sono veri tornei cioè le sfide standard che più vinci più ottieni gold che non vanno più tanto di moda ma ci sono ancora su mtga il discorso è si può giocare standard storico prima di arrivare ai formati passiamo alle modalità così almeno tutte e due cerchiamo di inquadrarli per come funziona le modalità che si possono giocare all'interno del client come diceva fabrizio fondamentalmente non so neanche bene perché io gioco a magic arena dal primo giorno della beta wizard of the ghost decide di introdurre il formato best of one che è una cosa che per magic non esiste credo che il gioco non sia pensato per best of one tecnicamente no però è il più giocato però ci si è adattato nel senso non è io una volta ero molto contrario e ecco mentre la famosa frase arena non è magic ci rido su best of one non è magic è un po' effettivamente ha un peso nella cultura del giocatore di magic ok però adesso mi sto ammorbidendo su questo semplicemente un formato diverso che ha chiaramente delle interazioni diversi dei mazzi diversi che funziona in maniera diversa eccetera quindi una volta che voi entrate potete giocare questo formato e lo potete giocare come? lo potete giocare casual? esatto non viene come si chiama la modalità casual? aspira non lo sappiamo nessuno di due no perché non la faccio più da un sacco casual e poi ci sono le ranked però è semplice esatto vabbè non mi ricordo come si chiama la modalità comunque uno può giocare cercando un avversario online a caso oppure facendo le ranked cioè utilizzando il sistema tanto caro ai giovani d'oggi non è vero anche io a suo tempo nei giochi online utilizzavo la famosa ladder quindi ognuno ha un rank e questo rank a seconda delle tue vittorie o delle tue sconfitte sale o scende e quindi quando giocate in ranked partite dal rank il primo è silver no bronzo forse c'è quello prima oddio non lo so più ok no c'è un ranked forse poi bronzo silver gold platino diamante super mitico esatto quindi l'idea del gioco su magic arena è che voi giocate abbastanza da arrivare a questo status di mythic a cui solo l'elite dei giocatori mondiali riesce a arrivare e ogni mese questa cosa si rinnova è un classico inventato non credo da harston ma da qualche gioco le stagioni sono le stagioni ma in city forse harston secondo me no ma un classico un classico di videogiochi quindi vi ci ritrovate se voi venite dal mondo del gaming in generale vi ritrovate su magic arena perfettamente ora come ha detto fabrizio questo tipo di gioco su magic arena è completamente gratuito nel senso che per giocare le ranked per giocare le casual non si paga un cosiddetto buy in perché parlo di buy in buy in come nel poker fondamentalmente magic è un gioco che viene se vuoi che ricopia un po' anche la struttura pokeristica con i premi c'è quello cartaceo ovviamente e solitamente il giocatore cartaceo è abituato ad andare ad un torneo a fare un buy in a comprare giocare anche se fai tutte sconfitte tu paghi comunque per giocare al torneo perché soffresci del servizio e poi quello che tu paghi va nel monte premi anche su magic arena ci sono delle modalità in cui si paga sì che sono i tornei che ogni tanto mettono esatto gli event no ci sono sempre sia best of one che best of three ci sono sempre quindi voi potete giocare standard o storico poi arriviamo ai formati in b1 in b3 pagando un buy in mille si è quello soldini però ricevi valuta in gioco valuta in gioco e però mentre la ladder non vi premia se non con il reward alla fine della stagione questo è importante da dire perché c'è comunque che vi danno delle wildcard eccetera gli eventi vi premiano quindi fate le vostre partite cinque vittorie e una sconfitta è il massimo del premio io sai che quelle lì non le faccio più da io le faccio sempre e tra l'altro quando mi chiedono perché infatti nell'economia lo dovevamo dire dice qual è il modo migliore per fare economia noi abbiamo sempre detto i draft ma ci sono anche quelli sono ottimi io all'inizio infatti li facevo per quello volete farmare gold non rankate fate quello io agli inizi proprio quando era appena uscito Magic Arena in open beta farmavo un sacco quello e non c'era neanche la ladder proprio quelli me li sparava a raffica per fare gold quindi oltre a queste modalità no le modalità sono finite no ci sono i formati direi ok perfetto passiamo a mettere no no scusami no aspetta diciamo i formati quali sono su mtga volevo solo dire che in realtà ci sono anche i tornei a ingresso con le gemme che ti danno la possibilità di vincere soldi che sono i come si chiama i tornei facciamolo alla fine perché appunto quello è non è una modalità pat to pro ah ok era il pat to pro vabbè spoiler del pat to pro spoiler del pat to pro spoilerone allora su magic arena i formati standard ah quindi diciamo prima tutto magic arena e poi sì 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 dai così chiudiamo magic arena rapidamente che secondo me lo conoscono tutti standard historic draft quei draft che devi accedere con valute in gioco ma anche pagando infatti questo volevo dire prima per giocare costruito quindi per giocare standard historic brawl non si paga cioè per giocare draft non c'è la differenza tra la ladder in cui non si paga e l'evento in cui si paga no la ladder degli eventi draft si paga comunque ed è un evento è un po' complicato però siamo qui per spiegarvelo sì e altri formati c'è questa cosa di magic arena dove ci sono eventi a pagamento sempre con valute in game oppure soldi veri con formati strani che vanno dal momir al cascade al brawl all'artisan che è solo comuni e non comuni dovrebbero farlo più spesso dovrebbero farlo più spesso e non a pagamento perché comunque c'è una barriera di ingresso e l'unica cosa che ottieni sono skin sono stili di carte però è un modo in più per sperimentare magic sono temporanei e si possono appunto sfruttare quindi fondamentalmente quando voi aprite il client avete la possibilità cosa gioco gioco standard per chi non lo sapesse standard è il modo di giocare magic diciamo più come si dice supportato da wizard of the ghost e che rappresentativo del gioco negli ultimi anni tant'è che sono le ultime set di espansioni guardatevi la puntata sui formati l'ho banalizzata ma historic invece è il primo formato digital only di wizard of the ghost che non era mai esistito sono tutti i formati che si possono giocare su carta historic invece no ed è il formato che voleva riciclare tutte le vostre vecchie carte di magic arena perché perché il formato in cui balli sta a parte si possono giocare tutte le espansioni mai uscite su magic arena esatto tutte le carte presenti su magic arena quindi anche quelle le inserite come in passato dagli eventi brawl che le inseriscono così spot insomma dicevo aprite il client avete il vostro mazzo potete giocare standard potete giocare lo ranked potete fare un evento potete fare un draft potete fare quello che vi consiglia il gioco e che quindi è un evento a tempo magari questo mese c'è il momir potete giocare però brawl che cosa è brawl brawl invece è un formato che in realtà è nato anche in cartaceo che però adesso viene un po' segregato su arena che ha delle regole molto simili al commander però io vi rimando sempre alla puntata dei formati se non sapete cos'è brawl perché secondo me è stata una delle migliori puntate del podcast e brawl è sempre disponibile ma non c'è una ladder cosa secondo me positiva perché non c'è un meta è molto for fun è divertente potete giocare come il commander infatti secondo me incarna bene la questione lo dico non ci sono progetti per portare il 2v2 su magic arena l'hanno sempre escluso dagli inizi per come è fatto proprio la vista mi sembra impossibile sì esatto e potete giocare con i vostri amici sulla friend list quindi potete aggiungere amici sulla friend list di arena e sfidarvi e giocare quindi questo è un altro modo per utilizzare arena io dire e l'altra cosa è che è tutto fratturato fra best of one e best of three tutto ciò che si chiama traditional è best of three e tutto il resto invece è best of one potete giocare draft best of three con regole e premi differenti non capisco perché il draft best of three per esempio non c'è la possibilità di fare 7-0 come il draft best of one ma si può fare solo tre partite in massimo forse tre si hai ragione anche quello non lo facciamo un voto ti puoi fare 3-0 2-1 o 0-1-2 sì o 0-2 chiaramente o 1-2-0-2 insomma vabbè ok patto pro siamo arrivati perché avevamo detto modalità formati patto pro ok allora una delle grandi critiche recenti mosse a Wizard of the Ghost è stata quella di non essere chiari per come si riesca a accedere ai tornei più grandi finalmente direi quest'anno Wizard of the Ghost è riuscito a diradare le ombre anche perché non è che erano ombre è che è cambiato mille volte sì negli ultimi anni un sacco di volte adesso sembra tutto effettivamente delineato quindi noi possiamo dire che cosa serve l'orale ranked abbiamo detto serve a fare mythic e che serve mythic beh fare mythic serve a braggare con gli amici a dire sono mythic a flexare sui nostri discord esatto invece no se voi riuscite ad essere alla fine della stagione che è a conclusione del mese quindi ogni 31 30 28 27 del mese nella top 1200 mondiale quindi dovete fare mythic poi dovete continuare a giocare quel numero che vedete ecco spieghiamolo perché tutte le volte questa è una delle domande lo chiedono intanto anche a me dici ma che vuol dire sono 96% che vuol dire vuol dire che sei nel 96% dei giocatori più forti giusto? sì esatto ok poi nel 99% dei giocatori più forti sì e poi vai nella creme della creme della creme e poi vai nella top 1200 più o meno in verità può essere 1400 eccetera quel numero della percentuale si trasforma in un numero fisso 1428 un 874 521 quarto al mondo 4 c'è solo un 4 ora se riuscite a mantenere entro appunto la fine lo scoccare della mezza non so che ore è a seconda del time la vostra top 1200 che cosa succede? venite invitati a partecipare vi danno un token speciale si chiama qualifier token e venite invitati a partecipare all'interno di del mitic qualifier MCQ che ora in tempi di covid purtroppo si tengono solo su arena quando la pandemia se ne sarà andata speriamo presto gli MCQ si possono fare anche cartacee e tutti i giocatori si ritrovano anche agli eventi cartacei ma lasciamo perdere il cartaceo perché non stiamo parlando di quello quindi top 1200 a novembre non è per forza il mese dopo guardatelo bene sono sempre pubblicate quindi basta cercare a parte che ve lo dice il Clive non dovete neanche cercare infatti vi riesce la data fate top 1200 poi un sacco di gente quando ha fatto top 1200 la prima volta a corsa del mese spaventata ha detto oh ma non è successo niente non mi dice niente è vero è vero devi aspettare un po' non vi dice niente ve lo dico quindi molto calmi siete sicuri di aver fatto top 1200 quindi vuol dire che non eravate proprio 1184 perché lì magari qualcuno va superato effettivamente ma eravate ottocentesimi e mancava un'ora quindi siete sicuramente nella top 1200 dopo circa tre giorni quindi un po' di tempo dovete aspettare un po' di tempo vi arriva una mail vi dice che vi siete qualificati vi dice a quale qualifier potete partecipare con il token che vi danno in omaggio all'interno totalmente della piattaforma senza muovere il proprio sacro sederino da casa voi potete giocare a dei tornei premium che si svolgono così si svolgono in due giorni al primo giorno c'è il famoso taglio ci sono tutte le persone che sono state invitate a giocare al Mythic Championship Qualifier che essendo che non ci sono quelli cartacei sono solo standard di storica adesso al Mythic Championship Qualifier voi quindi dovete giocare uno di questi due formati il sabato se fate 7-2 o 7-1 il sabato giocherete anche la domenica con tutti quelli che sono riusciti il sabato a qualificarsi molto chiaro se da questa questa è una novità proprio recente anche la domenica riuscite a fare 7-2 prima era 6-7-1 poteva riperdere solo una partita voi siete qualificati al Mythic Championship vero non Qualifier quello vero ho detto tutto ho detto tutto hai detto tutto benissimo l'unica cosa che aggiungo è il token nel client a me è sempre successo che arrivava una settimana dopo tre giorni dopo arrivava a me arrivava prima la mail e poi dopo ancora mi arrivava il token no contemporaneo io non mi sono qualificato l'ultima volta a Teros quindi è cambiato comunque se una volta vi arriva il token a parte che il client ve lo dice bello grosso quindi non vi dovete sbagliare poi voi andate comodi comodi sul vostro profilo su profile e c'è scritto proprio tutto cioè non vi potete sbagliare io ora parleremo di una cosa invece su cui ci si può sbagliare che è il famoso arena open però adesso come adesso c'è scritto l'orario il giorno il token vi qualifica a quale giorno e anche l'orario se non sbaglio quindi nessun problema c'è scritto qualified esatto c'è un piccolo punto interrogativo lo cliccate e c'è scritto qual è il qualifier a quale il famoso qualifier weekend per esempio il prossimo sarà il dicembre 19 e 20 esatto ok abbiamo detto tutto tranne una cosa che vi ha spoilerato prima lo zio carb e che dovevamo dire l'arena open che cos'è l'arena open l'arena open è una delle cose più interessanti che hanno inserito quest'anno su magic arena sono tornei dove partecipi investendoci gemme quindi valuta in game che in realtà puoi farmare nel gioco ma puoi anche ovviamente acquistare e il cui premio sono soldi reali non è semplice ovviamente anche questo è suddiviso in due giorni da adesso il primo giorno dove c'è la prima scrematura prima era solo best of one adesso è anche best of three quindi anche gli scettici hanno più possibilità di giocare e vinci i soldi reali che ti arrivano esatto ti arrivano a vincere mille o duemila dollari reali anche per l'Italia questa iniziativa funziona quindi basta avere 18 anni avere un come si chiama oddio mi esco il numero il numero di Siai capite io lo so in memoria però adesso non so più neanche se si chiama così vabbè comunque basta avere quello e voi potete effettivamente vincere sul vostro fantastico conto in banca da mille a duemila dollari tanti giocatori italiani ce l'hanno fatta ne citiamo una Tian Famun che all'ultimo Arena Open Standard si è portato a casa proprio duemila dollari bravissimo Tian su questo direi che hai detto tutto ah è un evento che non c'è sempre no non c'è sempre io non ho mai capito se c'è una regolarità in cui esce non lo so boh va bene se lo sapete fatecelo sapere non in due mesi mi sembra può essere comunque ecco io su questo voglio dire una cosa veramente molto importante che continuo a dirla tutte le volte che mi capita anche e soprattutto alle conferenze in cui mi invitano a parlare di e-sport alle lezioni che tengo nell'università questo e quell'altro Magic è veramente tra i pochissimi giochi a fare un torneo del genere direttamente sul client di gioco credo che neanche Fortnite faccia una cosa del genere perché Fortnite comunque quando fa questi tornei sui clienti di gioco ha comunque dei qualifier come l'MCQ a cui partecipare mentre Magic è proprio una roba molto molto innovativa da questo punto di vista poter vincere soldi reali è una secondo me per il tipo di giocatore che sono io per il tipo appunto di studioso del mercato e-sport che sono io è una cosa dirompente quindi ci tenevo a dirlo basta sì sì è un estremamente interessante però su Magic online attenzione siamo pronti quindi siamo pronti a passare alla adesso si complicano le cose allora Magic ha anche un altro client vuoi dire cosa? sì ripeto i carbonari ci sono ci sono le società segrete è così Fabri no è vero è verissimo è un per pochi allora se voi digitate adesso in questo momento sul vostro fantastico google mtgo install mtgo magic online vi troverete su una pagina web dove c'è scritto magic pure la grafica è più vecchia sembra una pagina web più brutta comunque rispetto a quella di arena è una cosa è fatta apposta per i carbonari gioco un sacco di informazioni trovate un tasto download now e potete scaricare gratuitamente gratuitamente tra virgolette tu non mi vedi ma gratuitamente potete scaricare gratuitamente potete scaricare il client ma 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 allora magic online che cos'è magic online nasce intanto tantissimi anni fa penso che sia una roba del può essere 2002 sì è vecchissimo vecchissimo è il client con cui wizard of the ghost decide di simulare il gioco di carte collezionabili più importante del mondo quindi mentre magic arena ha una grafica figa le animazioni i suonetti eccetera magic online è come lo chiama lo zio garbi va detto perché una battuta fa troppo ridere excel online cioè non ha niente nessun fronzolo non ha niente di attrattivo cioè già che vedi le carte è tanto ok sei già fortunato e ringrazia che vedi le carte ringrazia che vedi le carte ringrazia che vedi le carte perché quello è importante quindi come funziona dobbiamo spiegare come funziona una volta che voi avete scaricato il client non potete giocare a nulla se non pagate se decidete di pagare quello che si chiama l'upgrade c'è una cosa da pagare inizialmente però scusami ho una domanda non avevano messo la possibilità di giocare qualcosina senza l'upgrade forse hai ragione forse hai ragione sì 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 hanno cambiato questa cosa quest'anno per questo non lo sapevo quindi direttamente avrete 20 player point adesso vi spiego che cosa sono i player point non vi preoccupate 1000 carte più o meno e 2 avatar vabbè ti cazzo questo è ma se non gli date i 5 dollari dell'upgrade voi non potrete effettuare i trade quindi non potete effettuare gli scambi adesso tutti con la mano sul cuore gli scambi sì raga gli scambi perché magic online non funziona come magic arena non ha un'economia basata sui pacchetti che tu esci chissà cosa esce poi le carte rimangono sul tuo account e tu non puoi esambiarla no magic online è esattamente come magic reale cioè esatto è un simulatore di magic reale esatto le carte all'interno di magic online hanno un costo sì ok e nessuno di nessuna religione che io conosco gioca a magic online e apre i pacchetti che trova perché non conviene come in magic reale cartaceo li usi al massimo per draftare li usi per draftare ma quello che succede è che tu vai a comprare le carte singole e le vai a comprare sui siti dedicati ora senza far pubblicità a nessuno ce ne sono moltissimi quindi non voglio fare nomi o li faccio ma i principali dai allora sono mtgo traders importantissimo e poi c'è come si chiama quello che è inventato da un pro tra l'altro oddio non mi viene adesso te lo dico però perché tanto c'è un bot che si chiama così quindi me lo ricorderò sicuramente a brevissimo poi c'è mana traders importantissimo mana traders adesso vi spieghiamo vi spiego anche perché e card order questi sono i tre card order con l'h è scritto cioè voi andate su questi siti a fronte di un pagamento con la vostra carta i credit voi potete comprare le carte digitali non ci sono le carte fisiche ma c'è un'altra versione della carta che è solo digitale quindi voi avete il vostro bel mazzo fisico volete giocare modern su magic online perché volete giocare modern e non potete utilizzare le carte che avete già sarebbe stato troppo bello che se tu avessi una carta figa la mettevi e te la dava su io quando ho parlato con un mio amico st'estate e gli ho spiegato come funziona il TGO lui diceva ma se le carte non possono fare un codice che tu metti e dimostri che hai la carta e te la mette online e no non c'è sai cosa l'avevano fatto l'avevano fatto con pokemon che la carta aveva il codicetto sotto è vero infatti a mio figlio l'ho fatto fare hai ragione quindi insomma voi dovete ricomprare la vostra collezione quindi per quanto riguarda la funzionalità iniziale che stiamo ancora ad altissimo livello spiegandovi questo all'interno di MTGO se voi volete giocare costruito dovete avere delle carte digitali per farlo dovete comprarle ai siti che vi ho appena detto oppure chiaramente vincere grindare e così via perché vincere e grindare ma sempre poi da quei siti andate all'interno del client dopo che avete fatto l'upgrade voi vi troverete davanti a un programma tra l'altro che si apre solo in finestra se lo dovete streamare è un casino è una roba è bizantino niente di più niente di meno dove c'è uno store online dove potete comprare pacchetti vario tipo upgrade token bla 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 e poi c'è una finestra trade ora non è questo il luogo e il momento per spiegarvi come funzionano i trade su mtgo posso fare come dire c'è un nuovo video posso dirlo vero? c'è un mio video in cui spiego come funziona la trade però ragazzi insomma tu tra l'altro sei giovane ce l'avete presente c'è la mirk più o meno cioè i vecchi client di chat quelli proprio vecchi è uguale c'è una piazza virtuale ah sai cosa mi ricorda? no in verità qualcosa che sicuramente tu magari hai conosciuto e hai giocato tu hai mai giocato a Diablo 2? sì ok ti ricordi la piazza virtuale di Diablo 2 dove si vendevano gli oggetti? sì mi ricordo molto quello sei quasi gentile perché sì in verità quella di Diablo 2 era fatta molto meglio sì infatti anche da spetto però mi ricorda molto perché come funziona? funziona così c'è questa chat dove tutti mettono un post rispetto a quello che vogliono vendere e o comprare chiaramente la maggior parte sono bot con cui voi interagite e quelli voi gli date un comando e loro vi restituiscono un comando questo i programmatori mi diranno tra l'altro io volevo farlo un bot su MTGO facciamo i soldi io facciamo i soldi detto questo fattori fattori sì ma esatto comunque voi potete lasciare un messaggio tipo scrivere vendo quando ero su Diablo 2 dicevo vendo il mio Stone of Jordan e la gente poi andava lì a fare gli scambi stessa cosa qui dite vendo euro per TotTix i tix sono la valuta interna del gioco e di cui valgono un dollaro la gente vi contatta considerate che è difficilissimo sapere e capire quando vi contattano è una cosa c'è il sistema di messaggistico interno di Magic Online c'è ma la notifica non funziona io tutte le volte che guarda lasciamo perdere veramente è meglio lasciare perdere questo argomento qua perché chi ma cosa ti è successo Simo hai iniziato risposta scombo io ero il volto arena tu ero il volto MTGO cosa cosa è successo veramente è incredibile però è veramente ti assicuro se ti arriva un messaggio metti che ti arriva all'una tu l'avevi lasciato aperto e tu arrivi alle tre non lo puoi più leggere è impossibile è giusto ti sei perso un'occasione è come se al negozio io ti vedo all'una e ti dico ciao Simo e tu non mi caghi è finita lì simulatore tutto per tutto o becchi la notifica quando ti scrivono o sei fatto basta non lo puoi più leggere o almeno io non ho capito come si fa se me lo dite vi ringrazio perché non so come si fa e gioco a Magic Online da 8-9 anni non so quanto ok sempre nel come funziona non la difficoltà la cosa fantastica di Magic Online è che non c'è il drag and drop tu lo sai questo vero? cioè la carta voi non la potete trascinare di che adesso faccio fulmine sulla tua bestia non vedo l'ora quindi prendi la trascini conf no no è un click sul fulmine un click su dove volete sparare ma farci la mano è normale ci vuole tempo però però adesso spezziamo una lancia non è immediato è zero immediato spezziamo una lancia in fronte di Magic Online rispetto a Magic Arena però rispetto a Magic Arena non ci sono degli errori che all'interno del gioco ti fanno anche perdere le partite l'autotapper l'autotapper io continuo a perderci con l'autotapper questo è vero anche io comunque al di là dell'autotapper c'è un'interazione molto importante visto e considerato che Wizard of the Coast ha deciso che voleva ristampare all'interno di Amon Cat Remastered Pact of Negation stiamo d'accordo no? counter che si fa zero se voi su Magic Arena avete Pact of Negation in mano ed è il turno zero e tocca al vostro Oppo che fa terra l'Hano War Elf appena fa l'Hano War Elf il gioco va un attimo in pausa perché voi dovete risolvere il trigger cioè il trigger scusate l'aspetto dovete fare perché potreste tirare Pact of Negation qual è il risultato? che il vostro Oppo chiaramente ha capito che voi avete Pact of Negation perché non può fare altrimenti questo su MTGO non succede perché su MTGO dovete cliccare su ogni singola fase tra l'altro questo vi insegna molto a giocare vero verissimo io da quando ho giocato a MTGO sono migliorato da così a così ma proprio nella come conoscere le fasi le fasi di gioco le fasi di combo le impari vuole essere molto più user flandry però un po' mischio la gente non non capisce manco quello che ci piace si perde delle cose MTGO invece te lo spiega proprio 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 bene quindi da questo punto di vista vedete c'è anche una cosa positiva quindi sempre direi che il funzione ah no non mi sono dimenticato come funziona il gioco appunto all'interno del gioco ci sono due valute perché una era troppo semplice due valute in game ok allora una sono gli event ticket un event ticket è uguale a un dollaro gli event ticket si possono scambiare gli event ticket si possono utilizzare per giocare perché contrariamente a Magic Arena non c'è una singola modalità a premi gratis su MTGO non c'è la ladder non si può ladderare potete solo fare eventi come li fareste su Magic Cartagine si sono i Friday Night Magic per dire cioè la struttura è quella adesso ci arriviamo perché la struttura è complicatissima ma la voglio spiegare per bene così almeno ragazzi la spiego una volta per sempre così tutte le volte dico allora gli event ticket appunto si possono tradare quindi voi volete euro gli date quanto sta tipo 80 event ticket sarebbe 80 dollari sto dicendo veramente e beh lasciate il vostro euro se no potete utilizzarli per pagare l'ingresso a un evento e quindi giocare bene poi ci sono i play point quelli di cui parlavamo prima che quando voi scaricate il client ne hanno 20 20 tantissimi i play point contrariamente agli event ticket non si possono scambiare rimarranno sempre al giocatore che li ottiene i play point servono solo ed esclusivamente per giocare agli eventi non si possono utilizzare quindi visto che non si possono scambiare per comprare alcunché i play point sono ovviamente una valuta in game che comunque magic online vi fornisce quando vincete cioè nel senso non dovete immaginarla come una cosa ecco visto che non si possono scambiare non valgono niente valgono assolutamente 100 play point sono 10 euro e vi permettono di utilizzare e di entrare agli eventi quindi quando poi un evento voi vincete qualcosa vincerete una quantità di play point e una quantità di pacchetti esatto fine proporzionati a come si è andato adesso entriamo negli eventi che è complicato questo è interessante qua entra la fase spicy detto questo direi che il funzionamento è finito non c'è aspetta fammi solo dire una cosa puoi anche giocare casual senza pagare ma ma non hai nessun premio non hai nessun premio vedi solo mazzi e non ci sono tornei cioè tu non puoi fare tu il torneo su mtgo noi per esempio gli insiders la community che io tra virgolette rappresento ma che in verità poi è grazie ai miei mod noi facciamo tornei su mtgo li facciamo tramite altre piattaforme poi facciamo il free play che si può fare chiaramente quindi tu puoi giocare con i tuoi amici e facciamo il torneo ma i tornei che ci sono all'interno della piattaforma che sono quelli che ti fanno guadagnare diciamo fanno guadagnare brutto no però sono quelli che ti danno un premio che si concretizza in tx perché vendi pacchetti sono altri cioè adesso dico solo un'altra cosa prima di entrare nella fase clue che puoi anche giocare a multiplayer su mtgo cioè il bello è che puoi giocare a multiplayer con un'interfaccia ambiziosissima perché è ambiziosa però puoi puoi fare commander multi prego allora torniamo quindi a funzionamento concentriamoci ora cosa succede quando voi volete giocare mtgo all'interno del vostro client avete in alto constructed e limited perché su mtgo contrariamente a magic arena si possono giocare tutti tutti i formati di magic con tutti intendo tutti tutti anche pro tutti quindi velocemente i formati di magic che potete giocare su mtgo sono standard pioneer modern legacy vintage pauper commander formato speciality che è momir momir play in chase questo e quell'altro e tantissimi formati limited dipende dalla stagione ok quindi adesso si gioca zendica rising ma non si gioca mai solo un un'espansione adesso si gioca zendica rising commander legends poi si gioca il core set 2021 potete giocare un sacco di formati limited ok tra l'altro sei dimenticato una cosa simo su mtgo non puoi giocare ad historic prego ah è vero giusto non puoi giocare ad historic è fondamentale no è giusto quello che hai detto non esiste il formato historic proprio non esiste e potete fare anche i siled questo non si può fare su mtg arena i siled si possono fare su mtg arena solo quando l'espansione esce e poi vengono molti ok invece su mtgo deva defend siled adesso che siled c'è zendica rising prendi e fai il siled ok detto questo tutti gli eventi che ci sono su mtgo hanno un costo quindi facciamo che a voi vi piace il modern come a me facciamo che voi entrate sotto constructed vedrete un po' di venti ci sono le league cos'è una league la league è il modo di giocare più come si dice facile e come si è il principale di magic online voi vi iscrivete a questa league dovete pagare a seconda del formato un tot di soldi quindi o play point o event ticket e poi dovete giocare 5 partite a seconda poi a seconda della vostra bravura quindi a seconda del vostro risultato verrete rewardati quindi se fate 5 win c'è un premio 4 win un premio 3 win un premio 2 win un premio eccetera e potete giocare quando volete è importantissimo questo fabbri perché è un'innovazione di 3 anni fa non c'era prima non esisteva ok quindi voi vi iscrivete poi fate play match e dall'altra parte del mondo in Australia c'è un australiano incazzato nero è fortissimo anche che vi farà il culo esatto ma molto 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 arrabbiato che sta schiacciando anche lui play match in quel momento da lui è notte però quindi è più arrabbiato di voi e giocate giocate la partita a seconda di queste 5 partite non esiste il best of one questo mi ero identico in dirlo ma era quasi implicito sono tutte partite best of 3 dovete sotto avere la side eccetera quindi queste sono le league le league si possono fare in tutti i formati che io vi ho elencato quanti partite ci sono nella league 5 partite esatto hai 5 partite e fai il risultato andando cioè il 3-2 non è un vero e proprio risultato ma ci sei entrato e ci sei ti danno 2 euro esatto proprio detto precisamente perché ti ridanno il buy in che era di 10 euro più un pacchetto i pacchetti si chiamano treasure chest non li aprite mai rivendeteli ai bot questo è un consiglio che sta sempre nei miei video ok pronti quindi avete capito che ci sono le league potete giocare quando vi pare vi iscrivete alla league avete un tempo di ci sono tipo due mesi la league non è che chiude subito però c'è scritto potete fare le partite quando vi pare una oggi una tra un mese quando vi pare nessun limite poi però ci sono gli eventi premium o almeno così definiti gli eventi premium su MTGO sono esattamente come gli eventi che vi immagineresti di un torneo cartaceo cioè iniziano a una certa ora e tu devi stare lì a quella certa ora e hai da giocare a quella certa ora viene ipairato in Svizzera con gente continui a vincere vieni parato con chi vince eccetera 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 questi eventi sono i preliminari i preliminari sono l'evento diciamo questi li chiamiamo eventi temporizzati ti piace? mi piace appunto in cui bisogna stare lì il momento giusto sono quelli base il preliminari costa 30 euro non 10 e vi rewarda chiaramente con dei premi adeguati quindi se fate 1 o 2 vittorie avete perso i vostri 30 sacchi ma se fate 3 vittorie non solo vi ridanno i 30 sacchi ma vi ridanno l'equivalente di più o meno di 10 euro se fate 4 vittorie vi danno 45 euro anziché 30 e l'equivalente in buste 6x2 12 13 14 un po' di più se fate 5 vittorie sono 60 euro di playpoint e 12x2 altri 25 insomma un po' di premio stonks proprio stonks esatto stonks perché si chiamano preliminari perché uno dice ma che cazzo si chiama preliminari preliminari a cosa aha lì vi volevo pet to pro lì vi volevo esatto quando voi giocate un preliminari quando voi giocate una league quando voi giocate un qualunque evento su mtgo rischiate di vincere quelli che si chiamano qualifier point ok i qualifier point a seconda dell'evento che fate più amichevole meno ve ne danno vi servono per iscrivervi quindi gratuitamente e questo è incredibile zio infatti su mtgo gratuitamente questo è incredibile se voi però vincete un preliminari fate 5-0 un preliminari avete i vostri 40 play point questa settimana proprio mentre noi voi vedete l'episodio c'è il modern showcase challenge che è l'evento pro più pro che ci sia a cui non vi potete iscrivere con i soldi ma solo con i qualifier point quindi solo i giocatori che sono veramente gli eletti tra i carbonari possono accedere perché devono avere 40 QP 40 qualifier point però quindi non avete speso niente e questo evento qui ragazzi ha dei premi posso leggerli? vai 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 allora se voi arrivate primo a uno showcase challenge vincete 90 euro di play point 400 euro di bustine un l'invito al qualifier pro tour come cazzo se mi dice championship quello che è e pure un set di zendigan rising foil completo che vi potete pure far spedire a casa con le carte vere lo sapevate? questa è una figata perché mtgo io vi ho detto che effettivamente non potete trasformare carte vere in carte digitali ma potete fare il contrario se voi finite un set su mtgo potete chiedere quello che si chiama redeem program vi levano le carte dall'online e ve le spediscono tu l'hai mai fatto? perché è un intero set non ho mai finito un intero set e poi comunque anche questo è temporizzato cioè se io adesso dovessi finire il set di Innistrad quello vecchio col cazzo mi fanno redeem ok? devi farlo dei set nuovi non sai quanto è il limite forse no però non lo so non vorrei dire una scemenza no va bene comunque era una curiosità mia insomma comunque quindi questo è a cosa servono i preliminari i preliminari si vincono i QP i QP si vincono si usano per giocare grazie ai QP allo showcase challenge al qualifier al super qualifier alla challenge quindi lo showcase challenge è più figo della challenge ma anche la challenge è figa perché i premi della challenge ora non sono 90 ma sono 60 di play point sono 200 euro 250 euro di bustine e sempre uno zendical rising set completo ma non foil questo per il primo premio quindi quando voi sentite la gente che dice sai che c'è io ho un hobby che mi fa fare un sacco di soldi e gioco su MTGO è vero perché se siete dei grandi maestri sacri in determinati formati poi chiaramente magari quelli meno giocati sono sincero con voi riuscite effettivamente a tirarci fuori parecchio da MTGO perché al di là del fatto ragazzi le challenge su MTGO sono una roba da veri duri sappiate cioè la challenge il livello è alto al di là del livello altissimo ma il punto è che cioè tu l'hai mai fatto un PTQ sì quello cartaceo cartaceo uno va al PTQ sai che devi se dovessi arrivare in fondo giochi nove ore no? lo sai perché giochi dal primo turno all'ultimo turno poi la top 8 però stai lì con gli amici esci prendi una boccata d'aria ti prendi la bibita parli fuori vaga far la stessa cosa su MTGO davanti a uno schermo cioè devi essere proprio ci vuole stomaco cioè tu devi stare nove ore davanti al pc poi non le devi stare veramente perché siccome a turni con il tempo può essere che tu la tua partita la perdi subito e poi va a giocare cioè giochi dopo 40 minuti ma non è che se te presenti poi perdi c'è quel problema di comunicazione su MTGO tu devi decidere di utilizzare il tuo pomeriggio sera a seconda di quando queste challenge iniziano sono temporizzate a seconda delle time zone ogni tanto di qua ogni tanto di là e lo devi fare ripeto quando insomma sai che hai la giornata proprio totalmente libera però raga è il bello il brutto di tornei di questo tipo però ora l'ultima cosa che mi mancava da dire che è importantissimo dice ma ogni quanto ci stanno questi tornei perché abbiamo detto che l'arena open c'è una volta ogni due mesi il qualifier su magic arena c'è una volta al mese eccetera e su magic online la cosa figa di magic online è che queste challenge ci sono una volta a settimana sono veramente una bomba perché se voi ne perdete una la settimana dopo ci potete riprovare cioè effettivamente la possibilità di grindare soldi veri su mtgo c'è perché c'è devi essere molto bravo perché comunque il livello è molto più alto perché la gente che ci gioca nessuno sbaglia una giocata veramente è difficile vedere uno che sbaglia le giocate su mtgo mentre su arena vedi grande puffo su mtgo ci sta duke nukem ok però ripeto io lo dico sempre magic è bello perché può essere pure il giorno tuo se il giorno tuo se topdecki tutte le partite sei un campione se la vinci tu capisci perché se topdecki tutte le partite stai a mano vuota topdecki uro e lo fai il turno dopo vinci non è che perdi capito ed è insomma devo dire questo fabbri giocare su arena giocare tante partite in ladder eccetera è quasi un veramente cliccare lì senza stare proprio appassionato giocare su mtgo dove ogni partita ha un grande valore è molto emozionante e quando fai una challenge e stai 3-0 4-0 beh caspita caspita che emozioni è emozionante sì è un nome di emozioni questo è quanto comunque su mtga effettivamente un po' lo perdi è un gioco differente però è un gioco differente è un approccio un accesso che poi comunque è fatto pro perché c'è ragazzi ve lo sto dicendo voi potete anche giocare moda fare la challenge vincerla e dire venire sul mio canale dire a Ghira io ho vinto la challenge e tu no rimane il fatto che poi vi qualificate al Caldeim come si chiama qual il Champions di Caldeim e dovete giocare su arena eh sì gli eventi li fanno su arena gli eventi premium eh sì ad oggi col covid e così l'unico evento mega iper premium che c'è è il Mox che c'è stato settimana scorsa ha partecipato un italiano anzi si è detto la scorsa che poi due settimane fa quelle due settimane fa erano le finali dell'anno e poi c'è stata la tappa dove c'erano due italiani si erano qualificati Gerardo Delia e Francesco Giresi su otto giocatori c'erano due italiani Francesco Giresi tra l'altro si era qualificato giocando Pauper che è un formato che in Italia piace molto detto questo chiudo perché direi poi ho parlato solo io di mi scuso no su FTGO ti lascio parlare proprio tranquillo ce l'hanno richiesta in molti e spero che sia cosa volevo dire perché stavo dicendo ecco mi sono dimenticato completamente un Pato Pro questo quell'altro il Mox non mi ricordo però dovevo dire una cosa importante su Arena che comunque ci sono anche dei tornei organizzati non da Wizards ma organizzati da altre realtà non so se su Arena ci sono anche tornei organizzati da altre realtà niente mi spiace ragazzi volevo dire una cosa su MTGO e adesso me la sono persa però era una cosa che concludeva questo discorso se mi viene in mente entro la fine della puntata ve la dico ma per me direi che una puntata dove abbiamo fatto un recappone di tante domande che ci arrivano io MTGO ho un rapporto più di odio che di amore è normale chiunque cioè la piattaforma è quella piattaforma lì non è che si può nascondere in nessun modo no però ecco quando mi chiedono come faccio a diventare un giocatore competitive di Magic la risposta è MTGO secondo me per imparare ad essere forte forse sì forse sì dico forse io ho una grande fiducia in Arena e nelle sue possibilità lo dico sempre però forse sì no ma io non dico per far carriera ma io dico proprio per diventare forte 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 a Magic sì forse è vero secondo me un passaggio su MTGO devi farlo o comunque giocare tanto Cartaceo penso che comunque MTGO sia abbastanza verrò dissato per quel che ho detto ma secondo me se uno dice io cazzo voglio diventare professionista magari c'è l'eccezione che lo fa su Magic Arena ma secondo me devi passare dal Magic tradizionale va bene l'ho detto tutto sì tranne la cosa che mi sono dimenticato che rimarrà un mistero rimarrà però detto un mistero non lo sapremo mai non lo sapremo mai we never know tema della playlist 3x2 o il mistero o Excel scegli il mistero no speravo in Excel no no il mistero va bene dai grazie per aver ascoltato a tutti grazie a tutti a prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti